ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi video dedicato ai prodotti assaggiati e finiti questa volta non sono tantissimi come al solito quindi spero di non fare un video troppo lungo e proprio a questo scopo direi di partire subito tanto ormai sapete se mi seguite di che video si tratta se non lo sapete sappiate che è un video in cui condivido le mie opinioni per quello che riguarda i prodotti alimentari che ho assaggiato e finito voglio partire subito da una marmellata che ho comprato da ins piace tantissimo sia a me che al mio compagno si tratta della marca selezione più ed è una marmellata di limoni questa è veramente buonissima piace a tutti e due quindi quando vado da ins di solito la compro magari poi non mangiamo sempre questa perché a noi piace variare però diciamo che se capito da ins almeno un barattolo da tenere in casa lo acquisto poi vado avanti con questa bevanda al gusto vaniglia si tratta di latte scremato insaporito alla vaniglia è veramente profumatissimo il profumo di vaniglia è ottimo non vi so dire come sia il gusto perché a me il latte non piace quindi l'ha bevuto il mio compagno però mi ha detto che è veramente buono a lui è piaciuto molto e credo effettivamente che sia buono perché il profumo era molto invitante se non fosse stata una bevanda base di latte probabilmente l'avrei bevuta anch'io però il latte a me proprio non è mai piaciuto neanche quando ero una bambina volevo il latte e quindi insomma le bevande a base di latte non fanno per me ma il profumo di vaniglia era buono poi ho terminato questi snack al mais questi in particolare sono al rosmarino e questi al pomodoro e basilico sono entrambi molto buoni a me piace di più la versione al rosmarino però devo dire che anche pomodoro e basilico comunque l'ho apprezzato poi ho voluto provare un prodotto della marca Alimenta che è una marca che sinceramente io non conoscevo ed è una base per pizza alla napoletana con bordo alto questa era in offerta da Inns nel volantino di qualche settimana fa mi ha incuriosito tantissimo è con olio extravergine di oliva con lievito madre si tratta di due basi quindi in tutto 300 grammi io ho voluto provarla però in una versione leggermente diversa nel senso che una base l'ho utilizzata per fare una pizza però un po più leggera quindi una marinara quella che ha soltanto pomodoro e origano che io di solito non prendo mai e non faccio mai neanche quando faccio la pizza in casa però con questa base col bordo un po più alto volevo una cosa più leggera perché io comunque preferisco l'impasto sottile non mi piace la pizza la napoletana perché è troppo spessa però in questo caso siccome ero curiosa di provare questo prodotto ho voluto diciamo farcirla in un modo diverso un po più leggero e semplice invece l'altra base l'ho semplicemente inserita in forno così come era senza condimento quindi ho cotto una base così come accompagnamento al contorno al secondo come se fosse una piadina come se fosse del pane e invece l'altra base l'ho farcita in entrambi i casi mi è piaciuta moltissimo anche se come vi dicevo non è il mio genere di impasto base per la pizza perché la preferisco sottile io di solito la faccio in casa faccio proprio l'impasto non compro le basi già fatte quindi proprio acqua farina lievito a volte senza lievito comunque la faccio io e la faccio abbastanza sottile quando la compro di solito vado in quelle pizzerie dove so che la fanno sottile però questa comunque è stata apprezzata ugualmente quindi magari ogni tanto se mi capiterà di trovarla di nuovo potrei anche ricomprarla vado avanti con un altro prodotto che ho voluto assaggiare perché mi piace molto la tipologia le caramelle rossana io non sono una grande consumatrice di caramelle credo di avervelo già detto in altri video l'unica eccezione sono le caramelle rossana perché queste mi piacciono tantissimo quindi quando mi capita di avere qualche caramella di questo genere di solito le mangio ho assaggiato quelle al caffè quelle al cioccolato poi ovviamente quelle classiche quelle al pistacchio ancora non le avevo viste e devo dire che mi sono piaciute molto se vi capita provatele poi ho voluto provare questi biscotti con cioccolato e caffè della marca gran cereale è una novità sono dei biscotti che hanno pezzetti di cioccolato in particolare cioccolato fondente dell'ecuador e caffè sono buonissimi io li ho mangiati sia così da soli come snack diciamo sia a colazione con il cappuccino e in entrambi i casi li ho apprezzati molto penso che ogni tanto li ricomprerò a me piace variare molto con i biscotti non compro mai la stessa tipologia quindi adesso ne sto provando degli altri tipi però poi sicuramente nel tempo li ricomprerò poi ho acquistato da carrefour queste carote a rondelle bio già surgelate queste sono comode per tutte quelle volte in cui siete un po più di fretta io di solito le carote le compro fresche le taglio io e poi le congelo però questa volta mi sono lasciata prendere un po dalla stanchezza un po dalla pigrizia e le ho prese così però mi sono piaciute tantissimo quindi devo dire che ho apprezzato la qualità quindi perché no magari ogni tanto potrei anche ricomprarle anche se continuo a preferire quelle fresche però per essere carote surgelate mi sono piaciute poi ho voluto assaggiare acquistato da ins della marca valtenera questo maxi hamburger di bufalo io di solito mangio la carne però di bovino di maiale di vitello di bufalo sinceramente non mi era mai capitato quindi ho voluto assaggiarla è molto buona molto saporita però devo dire che non ho sentito tanto la differenza tra questa di bufalo e quella di bovino della stessa marca però vi sto parlando della stessa tipologia di hamburger della stessa marca dello stesso formato e sinceramente sono buone tutte e due ma io tutta questa grande differenza tra il bovino e il bufalo non l'ho sentita però comunque è buona e visto che stavo parlando di questa tipologia di prodotto vi faccio vedere anche l'altro questa è quella di bovino vi dicevo sono buone tutte e due però non ho sentito la differenza comunque anche questa molto saporita molto buona maxi formato quindi è piuttosto saziante sicuramente un pasto completo con un contorno anche senza primo nel mio caso va benissimo poi della marca mare blu linea le specialità ho voluto assaggiare queste insalate estive io le chiamo insalate estive ma in realtà potete mangiarle quando volete durante l'anno ma io di solito queste cose le associo di più all'estate ho preso questa che è la linea leggera con salmone al vapore sfiziosa e all'interno ha insalata con carote fagioli di soia edamame quinoa semi di zucca con olio extravergine di oliva e poi invece questa è la linea è provenzale e in particolare è insalata con orzo riso selvatico erbe provenzali con olio extravergine d'oliva e con salmone al vapore anche in questo caso quindi in entrambi i casi c'è il salmone al vapore cambiano un pochino gli altri ingredienti quando lo acquistate io ero convinta al 100% che mi sarebbe piaciuta di più questa anziché questa invece diciamo che contrariamente ad ogni mia aspettativa mi è piaciuta molto di più questa versione che è la versione provenzale invece questa versione sfiziosa non posso dire che non mi sia piaciuta però vi posso dire che non mi è venuta la voglia di ricomprarla quindi questa l'ho mangiata una volta e poi non l'ho più ricomprata questa invece l'ho acquistata una volta e l'ho già riacquistata altre cinque volte perché mi è piaciuta molto è un pranzo che comunque è comodissimo da fare in estate quando avete caldo non avete voglia magari di accendere i fornelli perché basta scaldarla nel microonde ed è pronta ovviamente non sono cose da mangiare tutti i giorni però ogni tanto mi fa molto piacere inoltre c'è il salmone al vapore che è un tipo di pesce che a me piace tantissimo soprattutto se è cotto al vapore quindi ottima io ve la consiglio poi ho finito dopo mesi mesi e mesi questi cioccolatini pasquali lo so siamo in estate io vi parlo dei cioccolatini pasquali ma quando non siete golosi succede così le cose vi rimangono nel frigo questi sono buoni ma ne mangiavo uno ogni morte di papa e quindi le ho finiti dopo un sacco di tempo però sono buoni inoltre sono carini perché hanno questa forma sono cioccolatini al latte della linea kit kat quindi insomma buoni perché a me è una linea che piace molto magari il prossimo anno a pasqua perché no potrei comprarli poi ho assaggiato o meglio ho riassaggiato dopo tanto tempo questo yogurt della marca vipiteno al gusto limone a me piace molto lo yogurt al limone in generale mi piace quello agli agrumi non lo mangiavo da un sacco di tempo e mi è venuta la voglia di ricomprarlo e mi è piaciuto esattamente come mi piaceva anni fa poi ho voluto assaggiare uno yogurt proteico io di solito non li compro però mi sono lasciata tentare perché mi piaceva l'abbinamento lampone e melograno poi è della marca muller che è un'ottima marca e quindi diciamo che sono stata un po' spinta dalla curiosità questo ha 15 grammi di proteine senza zuccheri aggiunti zero grassi ed è da 180 grammi quindi è molto grande 180 grammi per me sono tantissimi infatti questo l'ho diviso con il mio compagno non l'ho mangiato tutto da sola perché per me era veramente enorme però l'abbiamo diviso a metà e devo dire che entrambi l'abbiamo apprezzato lampone melograno è comunque un abbinamento che a me piace poi nella degustabox è arrivata questa bevanda di soia 100% vegetale gusto cioccolato mi è piaciuta molto l'ho bevuta a colazione invece che il cappuccino quella mattina ho fatto una tazza di cioccolato diciamo così comunque di bevanda la soia gusto cioccolato e l'ho apprezzata molto magari ogni tanto potrei anche ricomprarla per cambiare un po' e per non bere sempre il cappuccino poi abbiamo voluto assaggiare questo tiramisù con savoiardi acquistato da carefour aveva una bellissima confezione in un bicchiere di vetro quindi mi sono lasciata tentare più che altro dal fatto che volevo poi tenermi il bicchiere però non ci ha entusiasmato né a me né al mio compagno diciamo che rispetto al classico tiramisù che io comunque generalmente non mangio mai perché è un tipo di dolce che mi dà un po' fastidio quindi di solito io non lo mangio in questo caso l'ho proprio solo assaggiato e rispetto al classico tiramisù questo mi sembrava un po' troppo carico di zuccheri troppo dolce quindi sinceramente a noi non ha entusiasmato però la confezione è bellissima in un bicchiere di vetro che ho conservato quindi sono contenta di averlo preso per il bicchiere poi della marca morato anche questi arrivati con la degusta box abbiamo assaggiato questi panini questi che hanno praticamente la forma della ciambella sono buoni inoltre questi hanno i semi di papavero e sesamo vi faccio vedere la foto perché magari riuscite a capire un po' meglio spero che si veda qualcosa comunque sono buoni questi mi sono piaciuti io li facevo scaldare un pochino in forno li mangiavo semplicemente così da soli come si mangia il pane a tavola non li ho farciti perché comunque non mi piace in generale il panino farcito non lo mangio quasi mai però comunque vi posso dire che come tipologia di pane è molto buono poi stessa cosa per questi mi sono piaciuti della marca roberto sono brioche burger quindi dei panini per hamburger però leggermente dolci e mi sono piaciuti anche questi questi li ho mangiati in due versioni siccome erano leggermente dolci ho voluto provarli sia a tavola così come accompagnamento al secondo al contorno quindi come pane classico oppure a colazione come cosa dolce quindi abbinati al cappuccino abbinati a un paio di biscotti e ho voluto anche provarli in questa versione in entrambi i casi mi sono piaciuti forse dovessi ricomprarli sceglierei di più la versione colazione quindi la versione più dolce però comunque anche nell'altro caso sono buoni poi ho voluto assaggiare questo salmone io di solito prendo il salmone fresco però quando non lo trovo perché a volte succede che nel mio supermercato lo abbiano finito comunque non si è arrivato magari compro quello surgelato ho voluto provare questo della findus tranci di salmone è buono però si sente che è un salmone surgelato non vi so spiegare che cosa intendo di preciso diciamo che l'anno scorso quando ero in francia ho trovato dei tranci di salmone surgelato che una volta cotti vi assicuro che sembravano esattamente identici al salmone fresco quindi se non mi avessero detto che era surgelato io non me ne sarei accorta perché quello era veramente buonissimo e veramente identico al salmone fresco invece questi sono buoni però vi rendete conto che si tratta comunque di pesce surgelato perché non ha la stessa morbidezza non ha comunque la stessa intensità di sapore quindi sono buoni e vanno benissimo se volete il pesce surgelato per carità io lo compro pesce surgelato va benissimo e in molti casi mi piace anche però in questo caso non mi ha entusiasmato troppo quindi non so se lo ricomprerò anche perché ha un prezzo abbastanza alto quindi considerando che il prezzo non è così economico e così conveniente allora preferisco prendere quello fresco vado avanti perché ho acquistato a proposito di salmone anche questi due burger di salmone che ho preso da ins in questo caso mi sono piaciuti ovviamente sono due burger di salmone quindi è una cosa diversa rispetto al trancio però mi è piaciuto l'ho mangiato volentieri quindi magari se mi dovesse ricapitare di comprarli perché no potrei ricomprarli poi ho voluto assaggiare queste barrette con i biscotti digestive in questo caso abbiamo frutti rossi e cioccolato al latte sono buone queste barrette a me piacciono ogni tanto quindi le compro poi queste con i biscotti digestive non le avevo mai viste poi ho voluto assaggiare uno yogurt all'avena quindi uno yogurt vegetale al gusto mirtillo io di solito non lo compro lo yogurt vegetale compro quello classico con il latte con il lattosio proprio classico però in questo caso sono sincera al 100% mi sono lasciata attrarre dal packaging che è così mi piaceva questo uccellino azzurro e quindi l'ho acquistato per questo motivo però sinceramente non mi è piaciuto questa associazione con l'avena e il mirtillo non mi è proprio piaciuto infatti ne ho assaggiato due o tre cucchiaini e poi sinceramente non sono più riuscita a mangiarlo però non lo abbiamo buttato via perché lo ha mangiato il mio compagno a lui invece è piaciuto quindi insomma i gusti sono gusti quando vi dico che bisogna sempre assaggiare le cose a me non è piaciuto per niente a lui invece è piaciuto e quindi insomma se vi piace l'avena magari provatelo poi ho assaggiato questo yogurt zero grassi della muller al pistacchio questo è buonissimo molto cremoso sembrava un budino più con yogurt e mi è veramente piaciuto molto inoltre questa è la versione senza grassi quindi ancora meglio questo sicuramente lo ricomprerò appena riuscirò a trovarlo perché devo dire che l'ho trovato una volta e poi non l'ho più visto però è molto buono poi velocemente vi faccio vedere il buon grano della mulino bianco questi mi piacciono sempre tantissimo li compro molto spesso sono biscotti integrali molto buoni e perfetti secondo me a colazione poi pesco ancora qualcosa da qua ma abbiamo quasi finito ho voluto assaggiare queste insalatissime rio mare di tonno in questo caso con ceci zucchine carote gialle carote arancioni queste sono cose sempre buonissime d'estate magari con un po di pasta quindi per condire anche la pasta o per condire il riso secondo me sono perfette quindi queste ogni tanto le compro soprattutto in questa stagione poi ho assaggiato una tipologia di pasta all'uovo luciana mosconi è la marca fettuccine integrali però mi rendo conto che la confezione è vuota non dice niente quindi vi faccio vedere una confezione ancora integra perché comunque mi sono piaciute quindi le ho ricomprate si tratta di questa pasta in particolare ci sono anche le tagliatelle più sottili ma io preferisco queste qua un po più larghe quindi le classiche fettuccine sono veramente buonissime inoltre non è facilissimo trovare le fettuccine integrali o le ho viste le ho subito comprate e sono buone condite in vari modi classiche con ragù mi sono piaciute anche col pesto le ho fatte con i funghi anche se non siamo nella stagione dei funghi però ho preso i funghi secchi e ho voluto provarle anche così quindi assolutamente consigliate poi dopo tantissimi anni ho acquistato di nuovo questo dessert della galbani galbi in particolare una crema di fragole questo è molto buono molto cremoso è una specie di budino una crema dessert chiamiamolo così al gusto fragola c'è anche alla vaniglia e al cioccolato a me questo ricorda tantissimo la mia infanzia perché negli anni 80 quando ero piccola c'era della galbani uno yogurt al caffè che aveva il barattolino giallo e la parte sopra quella che poi dovete togliere era bianca con i chicchi di caffè disegnati ed era della marca galbani mia nonna me lo comprava sempre perché era uno yogurt al caffè che andava bene anche per i bambini perché era molto leggero il gusto di caffè si sentiva pochissimo era più che altro uno yogurt bianco con un leggero aroma di caffè che si sentiva molto alla lontana e a me piaceva tantissimo quello yogurt me lo comprava spesso poi hanno smesso di produrlo ed è un prodotto che mi manca tantissimo vi assicuro che mi manca se io lo vedessi di nuovo sul mercato lo acquisterei subito quindi vi ho anche raccontato questa cosa un po nostalgica poi ho provato questi ceci secchi quindi questi vanno messi in acqua buoni sono ceci normali ovviamente però li ho presi da ins non li avevo mai acquistati lì e quindi ve li nomino per questo motivo poi ho voluto assaggiare il kit kat dark cioccolato fondente la confezione un po rovinata però è buonissimo mi è piaciuto molto quindi quello magari ogni tanto lo potrei anche ricomprare e poi finisco con le brioche della marca misura cereali antichi questi sono ai frutti di bosco con questa farina multi cereale mi sono piaciuti comunque le brioche della marca misura sono sempre una garanzia secondo me perché sono veramente buonissime e comunque anche questi li ho apprezzati ho perso la cognizione del tempo come al solito sarà venuto fuori un video lunghissimo anche se i prodotti erano meno perché io in qualche modo riesco sempre a dilungarmi ne sono consapevole sono assolutamente consapevole di essere una chiaccherona davanti alla telecamera portate pazienza e grazie se siete arrivati fino a qui io spero comunque di avervi dato dei consigli utili di avervi fatto vedere qualche prodotto che magari non avevate ancora visto che non avevate ancora assaggiato spero anche di avervi tenuto compagnia vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme grazie a tutti